Salve, sono Ivano Barletta, docente della scuola MTS dall'anno scorso. Nel 1993 lavoro nel mondo del motosporto, ho lavorato dalla moto mondiale di Novara come motorista per il DTM. Ho lavorato in Ferrari per sei anni, sono stato anche capomacchino di Ciumata nell'ultimo anno. Attualmente lavoro in Rosso Corsa, che è la scuideria Ferrari. Quest'anno speriamo di avere ancora molti più docenti rispetto all'anno scorso nella scuola MTS che le cose possano ancora migliorare sempre più.